benvenuti a un nuovo video sugli animali in africa quando ti avvicini all'acqua devi stare attenta a una cosa i coccodrilli coccodrilli aspettano che arrivi la loro preda a meno di due metri prima di attaccare quando la loro preda si avvicina cercano di catturarla con una velocità di circa 12 metri al secondo stringono la preda con la loro forte mascella e la tirano sott'acqua i coccodrilli possono esercitare 200 kg di pressione sulla loro preda la mordono e la girano su se stessa un paio di volte vediamo un branco di gnu che beve acqua pacificamente ma stanno commettendo un errore se sei un animale in una zona dove vivono i coccodrilli non dovresti essere così a tuo agio questo giaguara affamato si sta tuffando nell'acqua senza paura per il cibo sappiamo che i felini non piace l'acqua ma se hanno fame puoi star certo che non gli importerà di bagnarsi questo giaguaro guarda come salta per catturare quel coccodrillo questo coccodrillo potrebbe pensare di catturare una di quelle leonesse ma il leone ruggisce e interviene davvero re della foresta questa leonesse sta rischiando grosso si trova nell'acqua e un coccodrillo l'attacca ma per fortuna riesce a salvarsi i coccodrilli sono animali predatori ovvero mangiano altri animali sei dispiaciuto da questo sì anche io ma considera che i predatori spesso sono utili per limitare e rafforzare le altre specie ovvero solitamente mangiano animali più lenti e malati anche se non è sempre così se sei in africa evita anche solo di avvicinarti a stagni sospetti o rischieresti di venire agguantato da uno di essi iscriviti al canale un saluto e ci vediamo al prossimo video